Non penso che sia un problema e non metto bocca come gli altri fanno le loro liste, ho rispetto del lavoro che fanno i partiti della coalizione e penso che si possa fare un lavoro tale da consentire al centrodestra di confermare il suo consenso alle prossime elezioni europee, un elemento che sarebbe molto importante per noi, per il nostro lavoro, soprattutto per il futuro dell'Europa perché si trova una partita molto importante, per quello che riguarda la mia candidatura al tema che appassiona voi, ma meno me, come ho detto lo deciderò alla fine di questo percorso, quando si presenteranno le liste sono le mie valutazioni, una decisione che non ho preso e che non intendo prendere adesso.